Dunque, io l'ho intitolata Lost in Hate, l'era medievale della asimmetria. Il titolo è ancora rimasto in inglese perché la prima volta che ho parlato di queste cose fu lo scorso maggio a un evento del Fraunhofer Institute a Berlino che si chiama Media Web Symposium e che doveva svolgersi proprio in questi giorni e anche quest'anno per i motivi che potete facilmente immaginare non si è svolto quest'anno. Ecco, una cosa importante con cui io penso che sia necessario partire è rigettare dall'inizio il concetto di rivoluzione digitale che è un mantra nel racconto di quello che sta succedendo, che sentiamo di continuo, la rivoluzione digitale come qualcosa di rapido e che si è già compiuto e di cui possiamo già misurare gli effetti e raccontare le conseguenze e scrivere anche libri magari sull'esito di questa rivoluzione che ci ha cambiati. Ora siamo in un nuovo mondo, un nuovo mondo che conosciamo perfettamente ma è completamente diverso e quindi ci dobbiamo adattare. Ecco, la rivoluzione digitale in realtà non si è affatto compiuta, siamo agli inizi di una lentissima transizione di cui gli esiti non sono assolutamente chiari ma durante questa transizione si stanno creando tanti problemi e molto spesso quando parliamo dei problemi non stiamo parlando delle conseguenze di una rivoluzione compiuta ma dei problemi che si verifichino in ogni grande vuoto che si apre grandi innovazioni, per esempio tecnologiche. Per riempire questo vuoto, diciamo nel racconto dominante vengono utilizzate delle buzzword delle parole su cui anche vengono costruite delle fortune economiche ed editoriali e che hanno tutte queste parole un po' il ciclo dell'hype io non so quanti di voi siano familiari con il concetto di hype cycle ma è un fenomeno che riguarda appunto le grandi innovazioni tecnologiche che viene studiato tutti gli anni da un importante info provider che si chiama Gartner e che per ciascuna tecnologia ha notato che c'è questa tendenza ad una crescita importante scatenata dalla miccia dell'innovazione della innovation trigger e poi però subito c'è un momento molto rapido in cui le aspettative erano state troppo pompate e quindi poi c'è un momento di disillusione e soltanto successivamente ci si avvia lungo un alto piano cosiddetto della produttività e questo ha caratterizzato gran parte delle buzzword che hanno attraversato questo inizio di transizione negli ultimi 10-15 anni web 2.0 ve lo ricordate, web semantico si parlava anche di web 3.0 user generated content, la internet of things e adesso più di recente la blockchain e i big data scusate devo un attimo comunicare a un collega che c'è un momento in cui io sono impermesso e quindi non posso rispondere approfitto per dire che ho appena messo in chat il link di youtube che avevi inviato così potete poi quando sarà il momento gli studenti possono far riferimento a quello l'ho messo come risposta all'ultimo messaggio però insomma è quello ok dunque procedendo in questa analisi diciamo delle buzzword ci rendiamo conto che però nessuna di queste buzzword ha mai colto l'unico vero fattore che è stato dirompente in questi 15-20 anni attraverso la rivoluzione digitale cioè il fatto che con l'introduzione della rete improvvisamente tutta l'industria dei media inizia a dover fare i conti con una cosa che prima non c'era e cioè il canale di ritorno siccome internet poggia su una infrastruttura a due vie nel famoso cavo che vi arriva fino a casa passano informazioni verso di voi ma anche di voi verso il mondo ecco che tutta l'industria si trova ad adattarsi con questa grande unica vera novità il canale di ritorno che però se torniamo un attimo indietro non viene mai menzionato nel racconto è una cosa che è l'unica vera cosa che ha già cambiato le regole del gioco e ha largamente aperto quella famosa frattura che dicevamo però non è mai entrato non è mai stato realmente al centro della discussione forse si potrebbe dire che il concetto di web 2.0 un po' ne parlava ma per il modo in cui poi il web 2.0 cioè l'invenzione per esempio di piattaforme editoriali indipendenti i blog e poi successivamente i social si è sviluppato vedremo che questa valorizzazione del canale di ritorno è accaduta in modo estremamente limitata ecco la valorizzazione e soprattutto la monetizzazione del canale di ritorno è molto molto limitata non esiste quindi una buzzword per il canale di ritorno vedete che io mentre parlo di canale di ritorno mi rendo anche conto di quanto è poco sexy questa parola perché di fatto nessuno ha provato a venderla e forse la domanda che dovremmo chiederci è nessuno magari poteva avere interesse a venderla c'è stata una fase iniziale quando appunto non nel discorso pubblico ma nel modo in cui l'industria iniziava a rendersi conto di questo tra virgolette problema perché veniva vissuto come un problema e non come un'opportunità c'è stato un momento in cui nei dibattiti anche all'interno dell'industria e anche io naturalmente ne ho fatto parte per parecchio tempo e perché scrivevo per esempio i piani industriali per team nel settore dei media quindi si poneva questo tema c'era diciamo l'aspettativa di una conseguenza prevedibile perché alla grande massa di contenuti su cui si fondava l'industria fino ad allora che pioveva dall'alto e di cui il pubblico era semplice fruitore si sarebbe immaginata una massa analoga di contenuti dal basso e bisogna vedere appunto se questa sarebbe stata un'opportunità oppure semplicemente qualcosa che avrebbe messo in crisi completamente il sistema la reazione fu soprattutto quella di considerarla come una minaccia una minaccia piuttosto grave e importante però poi molto presto ci si rese conto che questa minaccia era estremamente limitata quando parliamo per esempio tornando alle buzzword alle UGC che è un acronimo che sta per User Generated Content lo vedete in basso a sinistra e questa grande novità poi ci si rese conto che in sé non schiodava di una virgola dove sarebbero stati i soldi nel modello di business dei media perché? perché non sarebbero state le centinaia di migliaia e poi milioni di soldi amatoriali così impedire per esempio alle major di continuare a fare soldi con i contenuti professionali nessun video di un matrimonio di un battesimo vi ricordate i primi video che mettevamo su YouTube? quelli che davvero erano amatoriali che prima stavano magari su videocassette VHS avrebbe potuto costituire un problema poi col tempo abbiamo cominciato a vedere contenuti indipendenti su internet a fare sicuramente concorrenza ma senza anche quelli granché schiodare il problema vedremo poi bene che non fu più quella grave minaccia che a un certo punto veniva visualizzata in questo modo nel mondo dell'industria e cioè se prima tutti i soldi erano solo la parte sinistra adesso qualcuno farà i soldi con la parte destra e chi fa i soldi con la parte destra dimezzerà il mercato per chi come prima aveva fatto i soldi con la parte sinistra e quindi la reazione abbastanza immediata col tempo fu proviamo a svalutare il canale di ritorno cioè quando in questo caso io l'ho graficamente visualizzato con il gattino Pashin che insomma lo rende simpatico però in questo caso Pashin è l'utente diciamo l'utente che per primo comincia a scrivere su una tastiera e a lanciare qualcosa di diverso nell'universo dei media Pashin pensa pensa che cosa pubblicare quindi è consapevole di quello che che pubblica naturalmente in modo non professionale non autoriale non strutturato però è comunque una sua decisione decido di pubblicare qualcosa ecco tutto quello che l'utente pensa di pubblicare consapevolmente va svalutato e invece bisogna valutare quello che l'utente pubblica non consapevolmente diciamo con la pancia vediamo i più sono sulla pancia di Pashin ma in realtà che cosa sta facendo Pashin sta immettendo inconsapevolmente una marea di dati sulle piattaforme e il business viene sviluppato proprio sulla parte inconsapevole si trae profitto dal canale di ritorno inconsapevole non quella la parte consapevole e fin qui la reazione dell'industria sappiamo che le prime grandi piattaforme che hanno fatto un vero grande business come per esempio Facebook si fondano soprattutto sulla raccolta dei dati che non è diciamo estorta perché quando noi approviamo gli ordini di servizio di Facebook sappiamo che stiamo cedendo i nostri dati a Facebook ma lo facciamo in modo inconsapevole cioè non ci rendiamo conto che poi in realtà tutta quella macchina funziona grazie ai dati che noi condividiamo e che vengono poi rivenduti agli inserzionisti però c'è una parte di tutta questa rivoluzione che non ha spaventato all'inizio l'industria e che non è stata proprio prevista e cioè la vera grande novità non era tanto il fatto che tecnicamente noi utenti avremmo potuto cominciare a infrangere questo flusso continuo di contenuti con i contenuti nostri quello che gli utenti hanno cominciato a fare in modo massivo e che poi davvero ha cambiato la cultura anche la cultura popolare su cui si fonda quell'industria è il fatto che gli utenti hanno cominciato a prendere i contenuti che arrivavano dalle pubblicate anche digitali di quelli che erano i giornali le televisioni eccetera il cinema e a dare a questi contenuti un proprio significato e cioè la vera grande rivoluzione era una rivoluzione editoriale la perdita del controllo editoriale la perdita dei significati universali concepiti dall'industria intorno ai loro contenuti mentre le persone cominciavano a dare loro un significato individuale io dico anche un senso individuale a questi contenuti creando fenomeni come per esempio i meme in quell'era che Lorenz Lessig a un certo punto ha definito ha descritto come l'era del remix scusate io mi fermo un istante perché mi è arrivato un avviso di Microsoft Teams che mi diceva che la rete non era buona adesso mi sentite correttamente? mi sentite? solo sì c'erano momenti in cui andava un po' via cioè andava un po' lentamente però si sente abbastanza bene ok grazie scusate io quando mi arrivano questi avvisi di Microsoft Teams mi devo interrompere per un istante dunque allora questi che vedete sono tipici esempi di contenuti creati dalle major che poi però creano fenomeni non controllati dalle major e su cui le major non possono assolutamente fare business e di questo business in realtà beneficia soprattutto la piattaforma da questi contenuti che creano una grande quantità di engagement liberano attraverso l'engagement una grande quantità di dati ed ecco che vedete che questa è la primissima forma di vera minaccia che l'industria percepisce l'industria non si è mai sentita minacciata dai bellissimi video indipendenti che vediamo su Vimeo per esempio o dalle straordinarie opere creative indipendenti che vediamo su piattaforme come Flickr Tumblr eccetera l'industria si spaventa quando perde l'attenzione degli utenti e se contenuti che nascono propri generano attenzione altrove su piattaforme che non vengono controllate ecco che assistiamo a a un primo momento di preoccupazione allora potremmo dire potremmo immaginare che il ruolo diciamo dell'industria fino ad allora c'è quello di grande intermediatore culturale e c'è la capacità di stabilire che cosa fosse pop e che cosa no che cosa sarebbe stato rilevante per noi anche come notizie per esempio e che cosa no tutto questo sarebbe andato in crisi ma io non penso che la dovremmo vedere esattamente in questi termini anche se il racconto continuo è attenzione stiamo perdendo il nostro ruolo di intermediatori tant'è che gran parte del mondo culturale reagisce con dei libri anche molto belli non so quanti di voi hanno letto The Game di Alessandro Baricco che è scritto benissimo conosciamo il valore di Baricco però poi alla fine della lettura di queste 250 pagine la sensazione è che l'unico messaggio che arriva è attenzione perché questo nuovo mondo inventato da Corniani così lo definisce Baricco è un mondo dove io Baricco non ho più un ruolo non sono più io in grado di poi che cosa leggere che cosa vedere questa forma di capacità di incanalare gli interessi culturali delle persone che è un ruolo tipico degli intermediatori culturali con internet va in crisi aggiungo poi che c'è anche una versione un po' più semplificata del concetto attenzione questi due libri che vedete qua sono due best seller cioè se voi entrate da in qualsiasi negozio mondadori cosa che oggi non potete fare però insomma c'erano proprio le piramidi di questi libri alla fine dello scorso natale prima ancora natale precedente perché era la stessa industria culturale che voleva far spingere molto su questo su questo passaggio tant'è che al natale non di quest'anno ma di due anni fa tanti nonni regalarono questo libro metti via quel cellulare proprio da come dire da aprire la scatola l'aprivi del libro la confezione l'incartamento perché il nonno comprava quel libro immaginando la scena del nipotino che per tutta la scena di natale invece che partecipare alla riunione familiare avrebbe smanettato sul telefono anche il nonno rivendica il suo ruolo di intermediatore culturale e contesta al cellulare la capacità di aver sostituito questo ruolo di cantastorie entrambi questi libri hanno secondo me delle falle il libro di Cazzullo in particolare identifica il nemico nell'oggetto e pecca quindi molto il cellulare naturalmente pecca molto di tecnodeterminismo perché qui il problema non riguarda l'oggetto ma tutto quello che culturalmente succede e di cui poi l'oggetto è semplicemente il rivelatore tutto quello che culturalmente succede a seguito di un'altra innovazione tecnologica che è la rete che non è certo semmai il telefono ma poi soprattutto i fenomeni rivelati sono fenomeni umani non sono fenomeni tecnologici così come Baricco se la prende con i capitani di industria che identifica come maschi californiani ingegneri privi di qualsiasi cultura umanistica e quindi privi della necessità di quegli strumenti per darci la profondità nel capire le cose questi ingegneri si sono divertiti a trasformare tutto in un gioco tant'è che il momento della rivoluzione Baricco lo identifica con la presentazione dell'iPhone che ha gamificato nel suo modo di vedere le cose ha gamificato l'accesso ai contenuti rendendoci tutti più superficiali ora il Abbaricco è che l'iPhone è stato inventato da Steve Jobs promosso quantomeno come marketing con la sua straordinaria capacità di marketing da Steve Jobs che non è certo quello che ha distrutto l'industria degli intermediatori culturali ma anzi gli ha lanciato una specie di ancora di salvataggio perché l'iPhone è una tecnologia che ha permesso di irregimentare in rete l'accesso ai contenuti dando regole e ambienti chiusi e wall garden dove poi si sono replicate le industrie editoriali cercando di ripristinare il controllo quindi semmai l'iPhone era lo strumento del tentativo di offrire un ancora di salvezza a chi voleva di nuovo il controllo dei contenuti mentre la rete aperta come sapete per tanto tempo è stata considerata un nemico del mondo Apple poi col tempo anche per lo sviluppo di un sistema operativo simile parallelo cioè Android anche questa diciamo possibilità questa ancora di salvezza non c'è più stata però noi sappiamo bene che anche negli altri mondi legati ad Android come per esempio Google si cerca comunque anche di tenere le persone all'interno di recinti poi magari questo lo vedremo meglio più avanti però insomma questo per dire che entrambi questi libri il primo scritto molto bene quello di Baricco il secondo secondo me un po' meno quello di Cazzullo però ci sono delle falle che l'editoriale vuole mandare almeno agli italiani e cioè attenzione io servo ancora a qualcosa e ci sono anche personaggi che facendo marketing delle idee come Andrew Keen che è diciamo un fustigatore diciamo sempre molto presente a tutti i festival l'ho anche conosciuto personalmente a State of the Net di qualche anno fa ci sono persone che hanno trasformato tutta questa difesa della cultura umanistica dall'assalto dell'era digitale in una battaglia personale un vero e proprio Mein Kampf c'è tutta una serie di libri che sono usciti il primo era addirittura il culto del dilettante come l'internet di oggi sta uccidendo la nostra cultura e poi uscì con The Internet is not the answer dando per scontato evidentemente che qualcuno prima di lui pensava aveva promosso internet come la fonte di tutte le risposte il che in certi casi è successo ci furono personaggi come Timo Riley che davano un po' questa sensazione su internet avremmo trovato tutte le risposte ma come dire questa di Andrew Keen è la reazione al pensiero di un personaggio molto simile a lui anche lui anche Timo Riley faceva faceva marketing delle idee era quasi un dibattito tra i due ma in realtà nel mondo nessuno pensava che internet avrebbe fornito tutte le risposte quindi anche questo è come dire è un po' un balon d'essere lanciato da Andrew Keen in quell'epoca fino ad arrivare naturalmente poi alla soluzione cioè dopo aver identificato i problemi adesso in che modo Andrew Keen scrive promuove i suoi libri dicendo qual è la soluzione di un futuro che è già rotto quindi secondo Keen siamo già possiamo già osservare gli esiti di una rivoluzione compiuta però la possiamo aggiustare nessuno si fermò un attimo a pensare che forse siamo solo all'inizio di questa transizione molto lenta proprio come quando venne introdotta la precedente innovazione paragonabile per dire non pensa in termini di accesso democratico alla conoscenza e cioè la stampa a caratteri mobili quando ci fu quella prima rivoluzione tecnologica dovessero passare cent'anni per vederne i benefici e poter capire gli esiti di quella a quel punto si poteva dire rivoluzione ma in questi cent'anni cosa è successo sono state delle guerre di religione proprio legate anche alla facilità maggiore di accesso alla conoscenza e qualcuno disse in quei cent'anni ebbe tutto il tempo per dire che la colpa di quelle guerre sanguinose era l'innovazione tecnologica e invece il problema era il vuoto che si è aperto che ancora non erano stati messi al fattore comune i benefici di quella anche in quel caso lentissima transizione qualcuno potrebbe dire che oggi la tecnologia è molto più veloce quindi non ci sarà una transizione così lenta sì la tecnologia è veloce ma il modo in cui umanamente le generazioni poi si adattano poi culturalmente è molto lento l'abbiamo visto anche con la prima rivoluzione industriale fu abbastanza rapida l'introduzione della catena di montaggio ma la prima reazione degli uomini fu quella di approfittarne per sfruttare i lavoratori e poi insomma siamo arrivati quasi allo statuto dei lavoratori del 1970 quindi parliamo anche lì di cent'anni di tempo per tutelare i lavoratori nel nuovo contesto tecnologico ecco io penso che non sarà molto diverso anche in questo caso quindi una volta appurato che non c'è la crisi definitiva degli intermediatori a causa di una rivoluzione di cui non possiamo commentare gli esiti proviamo a vedere però nel frattempo che cosa sta succedendo quali sono questi problemi del vuoto che si è creato che sono magari problemi temporanei ma siccome occuperanno le vite e anche le vostre professioni per i prossimi 30 anni io credo che meritino un approfondimento la prima cosa che ha subito un forte colpo sono i modelli di business non è andata in crisi tanto la capacità di intermediazione culturale semmai essendo cambiati i modelli economici e questo anche prima dell'invenzione di internet è andata un po' in crisi il concetto di rilevanza la capacità dei media di stabilire onestamente che cosa è rilevante per le persone un fotogramma di un film famoso sul Watergate con Robert Redford e Dustin Hoffman che interpretano Carl Berstein e oddio adesso non mi ricordo il nome dell'altro giornalista sicuramente ve lo ricorderete voi del Washington Post che fecero appunto la grande inchiesta sul Watergate in un'epoca in cui nel mondo dei media la competizione era legata strettamente alla qualità del contenuto la reale capacità di individuare che cosa è importante per la vita delle persone e la tenuta dei sistemi per esempio democratici quindi le persone compravano il Washington Post perché lì sapevano ritrovare gente che avrebbe fatto un'inchiesta veramente rilevante per la democrazia americana e per le persone diciamo che quello fu l'ultimo grande esempio in cui l'industria fece soldi in questo modo sottolineo l'ultimo momento in cui l'industria fece soldi non l'ultimo momento in cui l'industria fece grande giornalismo l'inchiesta abbiamo visto anche per i successivi 40-50 anni straordinarie inchieste condotte in modo onesto il problema che non erano più il modo con cui i giornali creavano valore economico non era quello il modo in cui i giornali si sostenevano per intenderci quando Andrea Purgatori fece la splendida inchiesta su Ustica sul Corriere della Sera il Corriere della Sera non vendeva già più tante coppie perché c'erano inchieste come quella era già entrata in una logica competitiva per esempio con la televisione siccome la televisione aveva un suo modello tutto basato sul presidio dell'attenzione e dell'audience anche i giornali terrorizzati di perdere l'attenzione cominciarono a sviluppare il loro modello non sulla qualità del contenuto ma sull'infotainment l'infotainment che cos'è? è non più dare alle persone strumenti per farsi una propria idea di cosa succede come fu ai tempi del Watergate l'infotainment è semplicemente la capacità di un'industria di spostare le palle degli occhi e le eyeballs delle persone nei punti in cui generano profitti per esempio vicino a una inserzione pubblicitaria se andiamo a vedere anche l'evoluzione dei mercati del modo in cui si compongono le fonti di ricavi dell'industria editoriale vedremo un sempre maggiore ruolo della pubblicità e un sempre minore ruolo dell'acquisto diretto del contenuto le persone per esempio comprano sempre i numeri giornali ma cliccano sempre di più sui siti gratuiti ogni click è legato alla pubblicità ma già ai tempi dell'inchiesta di Purgatori quindi parliamo degli anni 80 su Ustica già a quei tempi i giornali molto prima che arrivasse internet avevano deciso di copiare il modello televisivo in tv l'informazione era gratuita prima l'informazione pubblica che però aveva altri vincoli c'era un contratto di servizio eccetera e poi pian piano anche l'informazione privata in televisione ha sempre più funzionato su questo sul presidio dell'attenzione e se tu punti tutto sempre di più sul presidio dell'attenzione perdi la capacità di stabilire veramente che cosa è rilevante per le persone anzi finisci per decidere tu che per le persone è rilevante ciò che ti è comodo per vendere pubblicità vedete bene non possiamo gettare la croce addostro l'industria di media per questo perché è stato un riflesso di sopravvivenza però non beviamoci la favola quando questi grandi capitani d'industria dell'informazione vanno che so al festival del giornalismo di Perugia a dire che loro sono quelli che fanno la vera grande informazione e ci salvano dal disastro di internet dal disastro dell'informazione non controllata dalle fake news eccetera tra l'altro ecco una cosa interessante è che le nuove piattaforme di social media come facebook in realtà che avrebbero potuto esplorare chissà quali nuovi modelli di business non fanno altro che replicare lo stesso modello diciamo di intermediazione dei media precedenti cioè se prima a stabilire che cosa le persone dovevano vedere poteva essere un palinsesto televisivo come vedete a sinistra oggi ciò che stabilisce che cosa le persone devono vedere è un algoritmo ma l'algoritmo non si fonda minimamente sugli interessi reali delle persone ma sulla necessità di facebook che morirà sempre di più di controversi poi vedremo anche l'odio dove nasce col preciso obiettivo di alimentare conversazioni che ci fanno liberare più dati e quindi più dati riescono a vendere agli insessionisti più fanno soldi però comunque come vedete siamo passati dai palinsesti agli algoritmi ed è anche questo un meccanismo artificiale di costruzione di rilevanza artificiale lo ha fatto la tv i giornali si sono adeguati già negli anni 70 e 80 e oggi le nuove piattaforme di social networking non fanno nulla di gran che diverso semplicemente usano una tecnologia più sofisticata per fare la stessa cosa rinchiuderci all'interno di ciò che qualcuno stabilisce essere rilevante per gli utenti del resto un grande profeta nel mondo dei media come Pierpaolo Pasolini l'aveva capito da molto tempo cioè anche quando tu hai la sensazione di un accesso più democratico vedi la società dell'informazione il villaggio globale e quindi la proliferazione delle possibilità di accedere a contenuti sembra una democratizzazione perché finalmente anche l'operaio ha accesso al giornale queste sono le cose degli anni 60 e 70 che vede Pasolini l'operaio vede la televisione quindi entra in questo linguaggio omologato e magari questo potrebbe darci l'illusione di una maggiore democratizzazione però la verità è che se il modo in cui si fanno i soldi con i contenuti rimane quello non ci sarà mai la parola che un operaio pronuncia perché l'ha letta che non sia comunque voluta dall'alto e quindi anche quando l'operaio per esempio impara oltre al proprio dialetto l'italiano perché vede la pubblicità in televisione l'italiano che vede nella pubblicità in televisione è un italiano tecnocratico questo diceva Pasolini e quindi un italiano dell'industria un italiano omologato che uccide le diversità tra cui per esempio anche i dialetti e le identità ma soprattutto la diversità quindi lui vedeva la vera democrazia anche nella difesa delle diversità o qualcuno direbbe delle minoranze però insomma ci siamo capiti oggi siamo di fronte per tornare al nostro gattino Paschin quindi a modelli che non non si fondano sulla simmetria che avevamo visto all'inizio tra i contenuti dall'alto e i contenuti dal basso anzi si fondano tutti su varie forme di asimmetria per questo diciamo che siamo all'inizio della transizione digitale perché è il medioevo cioè noi il rinascimento digitale che è un tema che ogni tanto qualcuno prova a raccontarci il rinascimento non lo stiamo vedendo neanche col binocolo siamo in un momento in cui i soldi dell'industria dei media vecchi e nuovi sottolineo e nuovi i soldi si fanno mettendoci in una posizione asimmetrica rispetto a chi controlla ancora i flussi dei contenuti intanto abbiamo detto la simmetria della consapevolezza Paschin anche se legalmente ha concesso la trasmissione inconsapevole dei propri dati quindi potrebbe sembrare consapevole ma di fatto non sa bene cosa viene fatto con i propri dati e va benissimo così all'industria quindi chi manda contenuti al gatto cioè all'utente è perfettamente consapevole di quello che sta facendo il gatto invece quando immette contenuti dal canale di ritorno non lo sa non sa esattamente a cosa sta contribuendo e anzi viene tenuto nell'illusione di partecipare a una grande conversazione democratica non è così poi ancora più importante c'è un'altra simmetria di fondo anche se il gatto teoricamente potrebbe cercare quello che vuole inseguire i propri interessi maturati nella vita degli atomi su internet quindi per esempio il gatto potrebbe nella propria giornata stabilire che la lettiera è diventata troppo piccola per cercare magari una lettiera più capiente beh molto probabilmente prima ancora che lui vada a cercare sul suo profilo facebook saranno apparse tantissime offerte di lettiere che tengono conto di dati che lui ha condiviso inconsapevolmente per esempio la proprietà e e quindi non comprerà la lettiera che veramente vuole ma quella che qualcuno ha stabilito essere giusta per lui e poi ancora a simmetria della performance cioè noi diamo tutti per scontato che il fatto che sul nostro cavo di fibra o adsl la banda a disposizione per ricevere contenuti è molto maggiore rispetto a quella con cui noi carichiamo contenuti nessuno ha mai protestato per questo ci sono state magari delle piccole lotte ideologiche sul tema della net neutrality importantissimo però di questo non si è mai parlato cioè noi abbiamo accettato fin dall'inizio che fondamentalmente internet deve essere una specie di televisione dove al massimo non avremmo potuto col telecomando inserire qualche dato come succede oggi sui decoder più avanzati a noi questo sta benissimo ci sono offerte di rete che ti permettono di avere un grande upload ma è una roba che viene mantenuta per chi pervicacemente si mette a cercare quel servizio però il discovery ti dice che la rete di cui hai bisogno è questa un giga in download 20 mega in upload perché chi fondamentalmente produce contenuti professionalmente per cambiare le regole del gioco non sei tu siamo noi siamo noi l'industria dei media insomma questo per tornare a Pasolini vedete bene che la parte dei contenuti dal basso è scientemente consapevolmente proditoriamente indebolita dai padroni dell'industria il grosso di quello che fruiamo non è voluto dalle altre persone con cui partecipiamo in una conversazione è voluto dall'alto non a caso ci accapilliamo tutti i giorni su temi discussioni che sono quelli che leggiamo sui giornali ne dico una molto attuale siamo in pieno coronavirus è uscito una circolare del ministero ieri nelle ultime 24 ore non si è parlato che di questo e cioè se era possibile portare dei bambini a spasso intorno alla propria abitazione oppure no per 24 ore tutti hanno parlato solo di questo perché i giornali hanno titolato in prima pagina questo nella mattinata credo di ieri e la conseguenza qual è stata cioè perché hanno titolato non dovevano titolare perché questa era quello che dice la circolare come è stato chiarito dopo era già vero da due settimane ma siccome il tema del giorno è stato questo ed è stato deciso nelle solite quattro stanze dei direttori dei giornali dei telegiornali per tutto il giorno sui social si è parlato solo di questo è parlato per esempio di conseguenze economiche di licenziamenti di tante altre cose che forse per le persone potevano essere un po' più rilevanti visto che poi la notizia non c'era cioè non c'è nessuna novità alla fine lo stesso premier ieri sera è stato costretto a ricordare che non c'è nessuna novità in quella in quella circolare e non c'è nessun alleggerimento delle misure insomma quello che conta è avere in mano il megafono con le vecchie o con le nuove tecnologie con la capacità per esempio di controllare l'infrastruttura di trasmissione tu prima avevi chiaramente i tralicci sulle colline quindi la gente vedeva la tv tua di te che avevi investito sui tralicci sulle colline oppure i satelliti oggi uno ha l'illusione con internet di potersi andare a muovere in mondi aperti ma la verità è che ti tengono sempre in questi circuiti bisogna quando vai su facebook devi parlare delle cose di cui parlano i tuoi amici su facebook e ciò di cui parlano i tuoi amici su facebook è ciò di cui hanno parlato i giornali la mattina e c'è soprattutto la mattina una costruzione molto attenta anche nelle scelte di palinsesto c'è la rassegna stampa la radio deve fare la rassegna stampa poi ci sono i programmi dove si discute di ciò che hanno detto i giornali la sera a mezzanotte la prima cosa è attenzione questa è la rassegna stampa del giorno dopo e tra l'altro in queste rassegne stampa ci sono dei giornali come il libero che vendono di fatto 25.000 copie però quel titolo viene visto nella rassegna stampa televisiva viene quindi visto da centinaia di migliaia di persone quindi è comunque un pezzo di paese che parla attraverso un organo di informazione in cui evidentemente si ritiene che un pezzo grosso del paese si riconosca poco importa se questo giornale vende 25.000 copie perché il suo direttore sarà invitato tutte le sere nei talk show io mi chiedo sempre come mai nei talk show non invitano mai che so Francesco Piccinini che avendo creato fanpage ha un sito di informazione che tutti i giorni fa un milione di utenti unici quindi un milione di utenti unici leggono fanpage 25.000 persone comprano libero ma nei talk show chi viene invitato il direttore di libero non viene invitato il direttore di fanpage riflettiamo anche su questo allora in tutto questo grande caos io scusami non so se Marta è in ascolto ho calcolato circa un'ora e mezza di lezione poi se devo invece fermarmi a un'ora ve lo dici tu sono in ascolto e vai tranquillo vado tranquillo benissimo perché con i tempi siamo adesso tarati intorno all'ora e mezza per qualche domanda fino alle tre io ho lasciato mezz'ora di tempo per le domande grazie va benissimo dunque qui in tutta questa fase noi siamo stati nel frattempo ulteriormente seppelliti sempre dall'industria di media da tutta una serie di buzzword che riguardano gli effetti drammatici di internet sulla qualità dell'informazione dove la la parola numero uno è fake news poi ci sono tante varianti c'è il confirmation bias ci sono le filter bubble però fondamentalmente la disinformazione la misinformazione però questo concetto di fake news è una cosa veramente onnipresente a me è capitato una volta dovevo andare a parlare a un convegno così ci facciamo anche una risata sapete in questi alberghi se tu apri la porta sbagliata entri nella stanza dove c'è il convegno sbagliato io ho aperto una stanza e c'era un tizio che aveva appena iniziato a parlare e ha cominciato a dire viviamo in un'era di fake news ho detto ma forse è il mio convegno e mi sono seduto poi però ho capito che era il presidente del io non so quale ordine dei produttori di materiali medici per la stimolazione cardiaca e ormai tutti devono iniziare dicendo viviamo in un'epoca di fake news anche come forma di auto attribuzione e autoproclamazione di far parte del mondo di quelli che invece non direbbero mai fake news perché perché siamo i professionisti perché non siamo i dilettanti di internet perché siamo gli scienziati per esempio sono persone come Burioni che sono veramente delle persone molto competenti ma insomma che hanno anche capito che non avrebbero mai avuto grande rilevanza mediatica semplicemente in base alla loro competenza scientifica quindi hanno cominciato a insultare gli incompetenti e in questo modo sono anche diventati gli straordinari personaggi mediatici ci vuole talento per carità per esempio Vittorio Sgarbi già negli anni 80-90 insomma era molto conosciuto nel mondo dell'arte per essere un grande critico d'arte e anche un grande intellettuale però non era conosciuto mediaticamente fino a quando hanno cominciato a insultare persone sul palco del Maurizio Costanzo quindi bisogna anche capire il ruolo di questi diciamo chiamiamoli intermediatori culturali una delle buzzword più gettonate in assoluto è il concetto di hate speech che viene regolarmente ed esclusivamente legato in qualsiasi contesto esattamente come le fake news a internet cioè come se il mondo dei media precedenti ne fosse completamente diciamo immune ora però io vi invito a ricordarci di che cosa si sono nutriti gli italiani nell'ultimo decennio prima di sbarcare in massa su internet ecco vediamo Sgarbi che insulta Alessandro Mussolini che non vede l'ora che non vede l'ora e poi interi format televisivi costruiti sul litigio sull'insulto su dire tu vorresti essere come me l'invidia l'odio diventati ormai quasi dei mantra divisivi a prescindere perché se tu riesci a dividere riesci a fare audience tant'è che a un certo punto anche vi ricordate Silvio Berlusconi che non a caso grande comunicatore e grande media tycoon cominciò a ripetere questo concetto l'amore vincerà sempre sull'invidia e sull'odio dando per scontato che l'odio fosse lontano da lui quando invece in realtà la carta vincente di questo tipo di messaggio è potersi permettere di non far parte del circuito dell'odio stessa cosa sulle fake news sempre vedete identificate come la tastiera eppure ragazzi per un attimo io vi invito a riflettere su questo articolo uscito nel dicembre del 69 sul giorno di Milano ai tempi il giorno era uno dei quotidiani più letti poco tempo dopo poche ore dopo la strage di piazza Fontana a proposito di fake news questo è solo un esempio poi ne potremmo fare tanti altri di fake news diffuse dai media ufficiali però insomma la verità era già precotta era già pronta l'autore della strage di Milano è un ballerino anarchico per fortuna lo Stato Democratico sa difendersi perché la polizia ha già nelle mani i colpevoli il 13 dicembre quindi quasi subito dopo c'è anche il racconto naturalmente del ferroviere Giuseppe Pinelli che senza problemi si dice subito automaticamente che si è lanciato dal quarto piano della questura di Milano dopo che era venuto meno il suo alibi ma questo è solo un esempio però vedete se ai tempi questo tipo di fake news poteva essere non dico giustificata ma spiegata dall'appartenenza dell'Italia a un particolare contesto politico di contraposizione che poi aveva rilevanza internazionale ancora più importante insomma da noi si rischiava o una rivoluzione da una parte o un colpo di Stato dall'altra fondamentalmente quindi diciamo la possiamo collocare in un contesto politico geopolitico molto particolare e storico le fake news diciamo dei media degli ultimi anni sono che sono come vedete in larghissima parte condivise soprattutto dai media ufficiali questa non è una statistica che dice le fake news di Repubblica rispetto alle fake news di tanti piccoli altri siti però sono degli histogrammi che ti fanno vedere qual è l'audience la readership dei fake news ecco io penso che se davvero le persone accedessero alle notizie false esclusivamente da questi siti che hanno sempre sparso notizie false il problema sarebbe minimo il problema vero è che sono i grandi giornali poi a recuperare queste notizie false e lo fanno non perché hanno un interesse geopolitico internazionale eccetera come in questo caso del 69 lo fanno semplicemente perché è funzionale al loro modello economico cioè se tu non quantomeno crei contrapposizione dubbio se non fai il dibattito in studio dove c'è uno che dice che gli asini volano e giustamente un altro che dice che gli asini non volano però se non crei questa contrapposizione continua tra vero e falso non ti può funzionare poi attenzione sempre ad avere troppa a dare troppa importanza a questo discorso del vero e del falso perché oggi le persone hanno in realtà gli strumenti man mano che imparano ad usare internet per fare da soli il debunking di tante notizie false semmai ci vorrebbe molta più attenzione per capire in che modo tutte le notizie false che vediamo negli sitarelli sulla destra poi finiscono per scalare per essere riprese magari anche per essere criticate per essere smascherate ma nel momento in cui tu le smascheri e due milioni di persone le vedono queste notizie false sulle pubbliche tu hai fatto un danno molto molto peggiore perché perché hai di nuovo tra virgolette diviso il paese tra incompetenti e ignoranti da un lato e competenti e scienziati dall'altro tutte le volte io credo che il fenomeno per esempio dei novax non abbia granché beneficiato della battaglia di burioni che i vaccini potessero fare male è una roba di cui insomma neanche si parlava per tantissimi anni da quando c'è burioni naturalmente prima c'era un inovax ma da quando c'è burioni è diventato straordinariamente mainstream ci può costruire sopra un intero to show di tre ore e vendere non so quanti bastoncini di pesce su questo ma poi soprattutto per chi di voi è appassionato di semiotica e magari fate anche degli studi tutte le volte che siamo all'interno di un testo o di tutte le sue varianti ancora più artificiose multimediali non possiamo comunque pensare di poter attribuire come dice François Jost in questo libro una proprietà testuale sintattica o semantica che ci permetta di identificare quel testo come automaticamente opera di finzione proprio tecnicamente a livello di linguaggio nel momento in cui usiamo un compromesso come il testo non abbiamo una proprietà del testo di qualsiasi genere che ci permette di dire cosa è vero e cosa è falso quindi nel momento in cui è già pubblicato su un giornale quel tema lì si è perso quel tema si è completamente distrutto quindi per un attimo forse dovremmo cominciare a smettere di parlare della gravità delle fake news sia perché ci sono sempre state sia perché oggi abilitano interi modelli di business sia perché ne beneficiano molto di più i media ufficiali che i media truffaldini iniziare a parlare di cose un po' più serie e cioè che cos'è l'informazione che cos'è la disinformazione che cos'è la misinformazione la mistificazione e per capirlo torniamo per un attimo al Washington Post a Woodward ecco Bob Woodward e Carl Benstein benvenuti in mente l'altro giornalista per fortuna il modo migliore per arrivare a capire cosa veramente conta è chiedersi come funziona il giro dei soldi che c'è sotto per esempio quando ci dicono informazione noi esattamente che cosa stiamo pagando stiamo pagando la capacità di due persone di darci degli strumenti come ai tempi del Watergate per capire meglio una realtà farci un'idea e informare il nostro consenso in una società democratica e poi eleggere un altro presidente e farci quindi una nostra idea grazie a degli strumenti che ci hanno dato questi signori che lavorano in modo etico oppure oppure nell'infotainment che cosa paghiamo cioè distinguere informazioni da infotainment perché attenzione anche lo Stato italiano che sapete elargisce parecchi contributi alle testate registrate perché tutela la libertà il pluralismo l'informazione che cosa sta finanziando sta finanziando per esempio i programmi che fanno più audience sono i programmi in cui la notizia e quindi il fatto già conclamato e cioè che la rete ha ucciso Tiziana Cantone è la premessa della discussione non ti danno lo strumento per capire cosa è successo a Tiziana Cantone vi ricordo la sua storia Tiziana Cantone è una ragazza che si è suicidata dopo che dei presunti suoi amici hanno fatto circolare dei video intimi sulla chat di Whatsapp e hanno cominciato a farla circolare anche fuori quindi la reputazione di questa ragazza si è così distrutta scalando poi anche sui media naturalmente che alla fine ha deciso di uccidersi ecco ci fu una trasmissione di Lily Gruber una puntata di otto e mezzo in cui dal primo fotogramma di quella mezz'ora la notizia la verità era già la premessa era nel new sticker per tutta la mezz'ora abbiamo visto Tiziana è la rete che uccide è la rete che ha ucciso Tiziana Cantone in studio la scelta editoriale di Lily Gruber ma più che altro gli autori della trasmissione fu quella di invitare persone che già davano quel new sticker come la premessa indiscutibile della discussione cioè persone che avrebbero condiviso quel punto di vista infatti abbiamo avuto Paolo Crepet che è uno psicologo tecnofobo ma neanche io credo intimamente convinto della sua tecnofobia ma semplicemente un grande venditore di tecnofobia e poi un bravissimo attore che si chiama Kim Rossi Stewart che qui non vediamo nel frame che proprio personalmente ha sempre ammesso di avere lui il terrore dei social media per una questione sua personale tra l'altro legittimissima però insomma poi c'era anche una psicologa Esther Viola molto brava che è stata quella che ha detto le cose più sensate ma è stata completamente schiacciata da questo racconto che metteva il fatto la rete che uccide che era diciamo l'opinione pergressa disinformata del telespettatore invece di darti strumenti per capire la realtà tu giochi sulla replica di questa opinione disinformata per mezz'ora col problema ancora più grave di vedere quella tua opinione suffragata dall'intervento di autorevoli ospidi che partono dalla stessa premessa quindi non ti hanno dato nessuno strumento bene questa trasmissione non è una trasmissione disinformata e disinformante perché Lily Gruber e gli autori non sono dei bravi giornalisti dei bravi comunicatori no proprio perché loro sono degli straordinari comunicatori e professionisti sanno come fare audience se lo scopo è fare audience l'informazione a te non interessa ti interessa per poter dire che il tuo programma è approfondimento e prendere i contributi dallo stato magari come è stata registrata ma non ti interessa per il tuo modello di business quindi noi che cosa stiamo pagando esattamente noi queste cose quando vediamo queste cose noi stiamo pagando la confezione di 12 bastoncini di pesce Findus che vanno nella pubblicità che l'inserzionista sa di dover fare su questo programma perché questo programma fa milioni di telespettatori in prima serata e fa milioni di telespettatori in prima serata proprio perché disinforma cercando di spostare il livello accademico di questa lezione che non ha mai avuto in realtà questa grande pretesa un po' più in alto sentiamo che cosa ha da dire in materia Emily Bell che dirige uno dei più importanti centri studi sui media sapete che negli Stati Uniti e in generale nel mondo anglosassone esiste una branca di studi che si chiama media literacy che si esiste anche in Italia e la vostra insegnante e la vostra docente Marta è una delle delle esponenti più importanti però lì entra proprio nel dibattito pubblico le cose di cui stiamo parlando noi adesso sono fuori dal dibattito pubblico e quindi per sentire una voce molto ascoltata anche negli Stati Uniti dobbiamo andare anche fuori dal dibattito tra esperti diciamo dobbiamo andare negli Stati Uniti dove c'è Emily Bell che dirige il Tao Center for Digital Journalism alla Columbia University cosa dice Emily Bell allora non sappiamo ancora tanto bene come evolveranno i meccanismi le fonti di ricavi e che che cosa le persone saranno disposte a pagare abbiamo visto prima che cosa pagheranno esattamente però di sicuro non c'è una forma di libero giornalismo funzionante che può essere finanziato esclusivamente dalla pubblicità non succederà finché è la pubblicità la principale fonte di ricavi dell'industria dei media il giornalismo semplicemente non ne farà parte e vabbè e questo poi è largamente diciamo associato alla crisi proprio dei ricavi in generale dell'industria dell'informazione è incredibile ancora tutta l'industria punta soprattutto sulla pubblicità nonostante che il messaggio sia questo cioè che a partire dal 2000 i ricavi sia online sia della stampa con una levissima differenza sono sempre crollati negli Stati Uniti e da noi anche la componente diciamo così dei ricavi della dinamica il mercato pubblicitario si sposta diciamo sempre di più verso internet chiaramente è la stessa stampa ufficiale ogni anno ha dei ricavi sempre più bassi cresce invece internet cresce anche la radio ma anche perché la radio è cambiata comincia a fare molto infotainment anche la radio e agli sezionisti pubblicitari piace molto tutto questo tant'è che la radio all news più importante d'Italia cioè in sole 24 ore la metà dei suoi ricavi pubblicitari li fa con un programma che definire di infotainment mi sembra quasi fargli un complimento cioè la zanzara che è una sequenza come sapete di insulti e provocazioni ecco una cosa abbastanza divertente è che poi questa stessa industria dei media quando prendo una fotografia da internet loro che fanno tante battaglie sulla riproduzione riservata scrivono riproduzione riservata in fondo a tutti gli articoli però raramente menzionano la fonte possono dire questa foto trovata su internet ma non dicono chi ha scattato la foto quindi c'è un po' anche questa etica a targhe alterne diciamo a proposito di etica anche io scrivo la fonte di questa foto perché non volevo sottrarmi all'obbligo ma veniamo a un'altra terrificante buzzword che va per la maggiore negli ultimi tempi e cioè la bolla di filtraggio the filter bubble di cui per la prima volta parlò Elie Parisi in questo bel saggio perché insomma è comunque una lettura molto consigliata e che però di nuovo dà la colpa internet cioè bellissimo perché il sottotitolo è che cosa internet ti sta nascondendo la teoria del libro è che alla fine internet è fatta in modo che tu stai sempre diciamo a discutere delle questioni in mezzo ai tuoi amici che già la pensano come te quindi cerchi la conferma continua e te ne stai in questa bolla dove ricorrono sempre le stesse opinioni non cresci intellettualmente per questo motivo e così via ecco la prima cosa interessante da notare di questa copertina è che è un best seller del New York Times e quindi diciamo che considerato diciamo la fonte da cui viene questa teoria dovremmo cominciare ad alzare un po' le orecchie è comunque l'industria dei media che sta parlando e che sta dando la colpa a internet di queste bolle di filtraggio allora secondo una illustrazione che sta sul libro fondamentalmente la fit to bubble è questa cioè tu hai intorno a te magari il tuo giornale di riferimento che può essere che so il Washington Post chissà come mai il New York Times quando parla di bolla di riferimento dei media subito indica il Washington Post è vero che è molto cambiato il Washington Post dai tempi del Watergate oggi è nelle mani proprio dell'industria digitale perché il proprietario del Washington Post adesso è Jeff Bezos e cioè il proprietario di Amazon e quindi insomma non sono molto colpito poi comunque se la prendono con il Washington Post se la prendono un po' con l'Huffington Post che è un giornale nato in rete per iniziativa di una blogger che ha cercato di cambiare un po' le cose e poi c'è l'altro problema di Netflix che ha cambiato le finestre di distribuzione dei media poi c'è il fatto di Yahoo News poi c'è Google che filtra con i motori di ricerca con AdSense e poi un altro nemico mortale chiaramente è Flipboard perché tu su Flippor puoi scegliere le tue fonti questo sarebbe il problema e quindi anche questa è una bolla e poi anche intorno alla tua immagine che sta al centro ci sono i tuoi amici con le loro bolle sono persone che bene o male ti conoscono sanno quello che ti piace tu piace a loro loro piacciono a te insomma è tutto un farsi complimenti è tutto un confermarsi è tutto stare chiusi da che cosa stare chiusi rispetto alla meravigliosa realtà che starebbe fuori che è multicolore dove ci sono opinioni diverse e di cui soltanto un grande giornale come il New York Times potrebbe darti contezza perché? perché esiste una capacità di intermediazione culturale perché esiste un grande rigore ora stiamo parlando comunque di un grande giornale non dei nostri terrificanti quotidiani però attenzione proviamo a invertire completamente questo ragionamento ok queste sono tante bolle che ti confermano e che ti coccolano e che inseguono i tuoi interessi progressi nessuno ti fa scoprire cose nuove però qual è l'alternativa allora? non sarà mica questa l'alternativa cioè che il New York Times stabilisce qual è la propria bolla valida per tutti insomma quando parliamo di filter bubble non è che prima c'era un mondo aperto di diversità prima c'era il tentativo di creare singole bolle valide per tutti oggi noi siamo ancora col problema delle bolle ma quantomeno ce le facciamo noi quindi come dire io credo che un giornalismo veramente di qualità sarebbe perfettamente in grado di infrangere le nostre bolle cioè se siamo in queste bolle ci siamo anche perché quando andiamo all'edicola se siamo elettori di Salvini compriamo la verità compriamo libero e non perché nella nostra home ci sono altri nostri amici leghisti con cui continuiamo a dare addosso ai migranti ok quindi insomma tutto questo ragionamento sulla capacità dei media veramente di di dirci la diversità che sta fuori nei nostri interessi e stabilire veramente che cosa dovrebbe essere rilevante per noi per la tenuta della società democratica poteva funzionare fino qui fino al Watergate però da qui in poi quando è stato l'infotainment per far funzionare l'industria dei media un po' di meno ancora di meno quando vediamo le forme più estreme di infotainment adesso facciamo un piccolo quiz ci stiamo avvicinando all'ora e mezza quindi vi invito ad aprire il link che vi ha mandato in posta una professoressa per rotta che contiene un video è in chat ah in chat ce l'avete ok è un po' salita però mi rimetto adesso mi dovete dire vabbè in realtà se aprite il link sapete anche qual è il film però insomma guardatevi un attimo questi quattro minuti quindi noi ci rivediamo alle quando saremo al minuto a un'ora e diciotto ok grazie 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 allora siamo arrivati più o meno alla fine del video lo potete anche staccare perché gli ultimi minuti poi non sono così importanti anche se c'è la reazione delle persone dal terrazzo che insomma è molto è molto bella mi sentite? sì sì li sentiamo ok allora posso andare avanti questo film era era quindi di Sidney Lumet del 1970 adesso non lo leggo perché c'ho quel pezzo di finestra coperto mi pare 77 76 che è il remake di un film molto più famoso quarto potere di Citizen Kane che era il film di Orson Welles che fondamentalmente introduce il tema del peso dei media scusate non era Orson Welles adesso mi sfugge però comunque insomma introduce il tema del peso di Orson Welles assolutamente era di Orson Welles ok certo ho avuto per un attimo un dubbio è lui è lui è lui che introduce introdusse il tema del peso dei media nella società bene in quinto potere è invece come la televisione cambia ancora il ruolo dei media perché porta all'estrema degenerazione proprio il fenomeno dell'infotainment questa spregiudicata produttrice televisiva interpretata da una grande Faye Dunaway scopre che il conduttore RTG quando impazzisce fa più audience quando insulta il pubblico fa più audience e gli inserzionisti sono contenti e quindi porta avanti tutta la sua parabola fino se non sbaglio addirittura non ve lo voglio spoilerare così magari ve lo vedete per intero non vi dico come va a finire però insomma fondamentalmente non è diverso da quello che a un certo punto hanno cominciato a fare Giuliano Ferrara durante l'impostore no c'erano le risse tra Sgarbi e D'Agostino oppure insomma i vari personaggi della tv degli anni 80 diciamo anche 90 molto prima che internet diventasse mainstream il tema dell'odio per vendere pubblicità era molto sviluppato e quindi atterriamo sul ruolo sulla connessione tra questi modelli di business e l'odio in realtà i due modelli di business quello del 1990 che continua ancora a funzionare diciamo quello della televisione e quello imperante adesso fondato sugli algoritmi nel 2020 e che sempre di più sarà importante hanno tutta una serie di aspetti simili che raramente io sento discutere nei dibattiti perché sembra anzi sempre che oggi il modello è incredibilmente diverso rispetto a prima e non è tanto così entrambi i modelli si fondano sulla valorizzazione di risorse scarse dal punto di vista dell'industria negli anni 90 la risorsa scarsa era il canale di distribuzione soltanto l'industria aveva le rotative i tralicci da mettere sulle colline i satelliti eccetera oggi nel 2020 teoricamente noi possiamo trasmettere ciascuno di noi può trasmettere da internet ma esiste una nuova risorsa scarsa che è l'attenzione dell'utente che comunque sono 24 ore meno le 6 che dormiamo e poi il livello di coinvolgimento di ciascuno di noi è limitato e quindi l'industria si fonda su questa risorsa scarsa poi esiste una risorsa scarsa naturalmente anche per l'utente che cosa era scarso negli anni 90 la diversificazione dei contenuti tu potevi per esempio in tv vedere quello che c'era sui pochi canali televisivi poi dei tv locali oppure i giornali erano quelli le notizie erano quelle oggi semmai il contenuto si è moltiplicato in un modo spaventoso ma il problema per l'utente è guadagnare paradossalmente l'attenzione dell'altro utente il coinvolgimento dell'altro utente cioè quello che noi vorremmo che fosse sempre review sono i like i commenti la nostra esperienza sociale online entrambi i modelli quello degli anni 90 e quello del 2020 si fondano su asset non duplicabili nel 90 era appunto l'infrastruttura per trasmettere il contenuto nel 2020 l'asset non duplicabile è il social graph nostro piccolo individuale se io ho mille follower uno che ce l'ha 500 insomma per lui io ho un asset non duplicabile naturalmente questo dal punto di vista dell'utente ma ancora più importante l'ampiezza del grafo sociale come si dice nelle piattaforme se io oggi inventassi una facebook più bella e anche più etica più ricca e anche tecnologicamente più avanzata nessuno vorrebbe comunque da me perché la gente è già tutta su facebook è vero che facebook si sta svuotando essendo voi giovani sapete benissimo che lo evitate sempre di più e andate altrove ma adesso stiamo parlando di grandi modelli di business chi fa più soldi sui social media è ancora Zuckerberg non solo con facebook ma naturalmente con instagram che continua invece a crescere anche con i giovani e whatsapp però il punto è che se qualcuno inventa un whatsapp fatto anche meglio e infatti esiste telegram comunque la gente preferisce andare su whatsapp perché su whatsapp trova tutti gli altri e telegram prova a diversificarsi per esempio dando più privacy più protezione ai contenuti e così via ma di fatto chi arriva per primo ha un grafo sociale più ampio più nodi sociali la legge dei nodi più crescono gli utenti e più il valore di ogni singolo nodo cresce e quindi l'utente verrà da te perché ci sono tutti gli altri e l'asset non duplicabile sono le folle di persone fondamentalmente abbiamo detto prima che si fondano sia negli anni 90 sia nel 2020 ancora su delle asimmetrie critiche per esempio negli anni 90 la proprietà del canale distributivo è solo da una parte e quindi l'utente non ha distribuzione propria e si fondava su questa asimmetria poi c'era anche il fatto che il pesce grande mangia pesce piccolo fino a tutti gli anni 90 ma anche adesso vedete continua appena un diciamo un industriale dei media diventa un po' più piccolo dal suo diretto competitore viene mangiato viene comprato o certe volte viene anche fatto suicidare come successe con Maxwell negli anni negli anni in cui c'era la lotta tra Mardock e Maxwell nel 2020 quali sono le asimmetie critiche abbiamo detto già l'abbiamo accennato la consapevolezza e la proprietà del dato e poi soprattutto il fatto di muoversi per primo Facebook si è mossa per prima e anche se oggi Facebook è un po' una babele una social network culturalmente stanco dove ci sono soprattutto generazioni avanzate dove il livello della conversazione non è particolarmente alto però non importa io sono arrivato per primo tutti continuano a venire da me perché ci sono tutti i miei amici specialmente quelli a bassa alfabetizzazione informatica quindi se mia madre vuole trovare una sua amica mia madre ha quasi 80 anni più facile che la trovi su Facebook che su TikTok mi sembra evidente similitudini nel modello di business mettiamo un attimo da parte il momento in cui paghiamo noi direttamente il contenuto quindi quando andiamo al cinema quando compriamo un disco però il grosso del modello di business è la capacità negli anni 90 vedete la similitudine negli anni 90 era la capacità di spostare gli occhi delle persone verso contenuti che erano interrotti da inserzioni pubblicitarie facendo leva sul controllo della distribuzione e sulla raccolta dei ricavi la fonte dei ricavi era vendere pubblicità nel 2020 non è molto diverso ancora si tratta di spostare gli occhi delle persone verso contenuti in un posto chiuso contenuti sponsorizzati quindi imposti alla tua attenzione scelti gli algoritmi e basati chiaramente sulla ampiezza del grafo sociale e qui la fonte di ricavi è vendere campagne di sponsor per rivendere i dati degli utenti agli inserzionisti e così via allora vedete chiaramente che c'è una connessione diretta tra i key performance indicator del vecchio modello quello degli anni 90 l'audience e quello del 2020 engagement funziona anche oggi così tu non puoi avere audience una tv non può neanche più avere audience se non è capace di ottenere engagement sui social media e i social media non riescono a far girare grandi quantità di dati se non su argomenti che catalizzano l'attenzione delle persone che sono però ancora decisi in televisione sui giornali eccetera quindi apparentemente la vecchia e la nuova industria sono nemiche la verità è che in questo momento c'è una santa una nuova ed eterna alleanza come si dice più facilmente la domenica mattina ma adesso noi lo diciamo anche se è giovedì allora se è chiaro che c'è questa connessione diretta tra engagement e audience quello che era il contenuto vincente nel vecchio mondo l'entertainment cioè ciò che non mi fa cambiare canale ciò che non mi fa spegnere la tv quindi sì film sport grandi eventi ma soprattutto infotainment talk about reality oggi trovo un corrispettivo facilmente identificabile nei contenuti polarizzanti cioè ciò che ti imprigiona in una discussione quindi noi teoricamente potremmo scrivere qualcosa di diverso nella barra degli indirizzi uscire da facebook e sfuggire da quella discussione ma noi dobbiamo dire la nostra perché magari se no facciamo la figura di quello poco informato di quello poco alla page di quello poco colto e se c'è un contenuto polarizzante quale migliore occasione per ricordare agli altri che siamo migliori di loro le leve identitarie quindi io difendo la mia categoria non il mio argomento nel merito se io capisco che nella mia cerchia ci sono elettori del partito democratico e vedo un mio amico che so che vota da quella parte dire una certa cosa neanche mi metto mi pongo il problema se abbia o meno torto nel merito lo difenderò a prescindere perché fa parte del mio clan contro il leghista cattivo e viceversa naturalmente e poi ancora il contenuto vincente di stretta attualità perché abilita questo fenomeno drammatico che si chiama fear of missing out cioè ciò che ti imprigiona nella piattaforma ora vedete bene che questi sei elementi i tre del vecchio modello e i tre del nuovo modello funzionano perfettamente nel circuito dell'odio funzionava perfettamente con Sgarbi Ferrara Funari nella tv degli anni 80-90 funziona meravigliosamente con Burioni Mentana e tutti diciamo i divisivi anche i politici divisivi che devono sempre distinguersi con provocazioni continue eccetera perché funziona in questo nuovo modello che quindi stabilisce che l'odio è ancora il contenuto vincente si potrebbe dire che l'odio è il petrolio dei nuovi media così come lo fu dei vecchi media qualcuno a questo punto obietta sì va bene ma ai tempi almeno non eri tu il prodotto beh un momento ai tempi negli anni 70 eri ancora tu il prodotto perché ti mettevano una scatoletta per misurare l'audience a casa e il meter semplicemente era una tecnologia molto molto più povera inventata la Nielsen che oggi naturalmente è ancora in mano tutto il controllo dell'engagement eccetera la domanda che faccio a questo punto è ma voi siete sicuri che se gli inventori del meter degli anni 70 avessero le tecnologie che oggi a Mark Zuckerberg non ne farebbero uso in barba alla privacy all'etica eccetera io ho come il sospetto di no e per chiudere visto che siamo arrivati all'ora e mezza ok ma noi come utenti che cosa possiamo fare beh io cambierei la domanda perché non è che possiamo fare tantissimo per cambiare a meno diventare militanti andare ai festival ripetere i pericoli come fanno tanti con grande dispendio di energia e di denaro però come utenti noi intanto possiamo cominciare ad affrancarci da questa ruota del criceto così somigliante alla vecchia teledipendenza intanto affranchiamoci dall'agenda dei media cioè non sentiamo sempre questa necessità di esprimere il nostro punto di vista su questioni decise da altri perché anche quando leggiamo questi temi sui social i temi sono sempre decisi in quelle quattro in quelle quattro stanze poi attenzione noi c'è l'attività di essere liberi e indipendenti quando parliamo di tutto ciò che è pop come se fosse trash pensando così no di marcare un certo distacco per esempio quelli che passano tutta la settimana a prendere in giro i personaggi del festival di Sanremo e non sanno che senza di loro il festival di Sanremo non vivrebbe cioè non si rendono conto di essere perfettamente funzionali a quel modello di business quindi la social tv non è in alcun modo più intelligente della vecchia tv ecco questo ci tengo a dirlo e anche quando poi pensi di essere un creativo e fai cominci a fare un milione di abbonati e avere oltre 2 milioni e 300 mila views sui tuoi video però se magari per tanto tempo per arrivare a superare una certa soglia è davvero creato qualcosa di nuovo di originale ma poi capisci dopo il milione di follower che è più semplice coltivare gli hater come fanno tanti copiando perfettamente lo stile per esempio di Selvaggia Lucarelli che è uno stile broadcast quindi se poi appena guadagni un minimo di celebrità smetti di creare cose nuove lo ha fatto anche Favij Favij è un ragazzo di straordinario talento e intelligenza ma a un certo punto superato il milione di follower ha cominciato a gestire gli hater fondamentalmente in modo da avere i suoi fan che scatenano engagement contro i suoi hater vedete che l'odio così come nel vecchio mondo dei media funziona anche nel mondo dei media nuovi e non solo delle grandi piattaforme ma ahimè anche delle nuove celebrità digitali e infine se qualcuno dice forse la soluzione prendiamoci due settimane senza usare il cellulare facciamo il digital detox però attenzione potremmo anche provare ad affrancarci del flusso per cui noi subiamo ciò che troviamo online e quindi viviamo una vita che troviamo online e potremmo invece decidere di usare l'online per arricchire la vita che facciamo offline ci sono gli strumenti se andiamo al museo oggi possiamo ok vedere rapidamente un quadro e apprezzarlo esteticamente in tutta la sua plasticità e fisicità però poi per gli approfondimenti ma perché dobbiamo stare lì che siamo dentro il museo a ascoltare l'audio guida a sfogliare il foglietto che ti hanno dato la didascalia quando poi se la cosa ci ha veramente interessato e ha colpito il nostro immaginario noi possiamo a casa fare tutti gli approfondimenti su chi ha fatto quel quadro eccetera questa è un'agenda nostra è un'agenda che nasce dalla nostra vita reale nessuno sui giornali gli ha detto che devi parlare di The Blue Pile di Edmund Charles Darbell che è l'autore di questo splendido dipinto tante volte vediamo un film la sera prima di andare a dormire ci leggiamo la pagina Wikipedia che racconta tutto di quel film del cast eccetera ecco invertiamo adesso il film in quel caso l'abbiamo visto in tv e qualcuno ha deciso per noi di vederlo magari il menù di Sky o il menù di Netflix però questo transmedia storytelling privato che un po' facciamo andando magari su piattaforme aperte può aiutarci molto a sfuggire dal flusso e poi ancora credevo che fosse l'ultima se vediamo un limite tecnologico in una piattaforma per esempio come è successo a me qualche tempo fa mi hanno invitato a un evento proprio in cui parlavo di queste cose ai creative mornings e che cosa hanno scritto nella storia instagram che promuoveva l'evento hanno scritto link in bio perché perché instagram non ti permette di mettere la storia da cliccare nella non ti permettono di creare un link dentro la storia ti permettono di creare un link nella bio e quindi tutti quanti cominciamo a scrivere link in bio link in bio ma se la piattaforma ha un limite tu non cercare tra virgolette di trovare un workaround in un limite della piattaforma usa un'altra piattaforma più aperta che sfrutta tutti i vantaggi della rete non i vantaggi che servono alla piattaforma per alimentare il suo algoritmo è chiaro che instagram non vuole link nelle storie che se no la gente uscirebbe da instagram e quindi si affrancherebbe da quella da quella piattaforma così come perché dobbiamo assecondare google e quindi condizionare drammaticamente il modo in cui scriviamo gli articoli in modo che siano ben indicizzati questo significa assecondare un limite della piattaforma con il limite per noi non è un limite per google anzi google in questo modo riesce a targetizzare molto meglio ad words ad sense e ancora quando itunes vediamo il box a sinistra prende questo meraviglioso movimento libero del podcasting che si fonda su un formato aperto che si chiama rss però poi per stare sulla piattaforma di itunes ti impone dei tag che funzionano solo su itunes vuole introdurre un limite proprio per il mondo del podcasting dicendo al mondo del podcasting il podcast siamo noi il podcast è apple ecco tutte le volte che vedete un limite di questo tipo incavolatevi e andate su un'altra piattaforma che lo supera questo è un altro modo per affrancarsi anche tecnologicamente dai limiti dalla fase che stiamo vivendo e quindi in definitiva per chiudere con una sola parola tutta questa presentazione impariamo come prova a fare Pashin a scegliere a scegliere di che cosa nutrirci a scegliere di che cosa discutere a scegliere che piattaforme usate perché tecnologicamente è ancora possibile tutte le volte che vediamo qualcuno qualcosa una piattaforma una persona un medium che dice a noi cosa è rilevante per noi scappiamo a gambe levate perché quello è ancora il medioevo della transizione che stiamo attraversando ho finito grazie Antonio benissimo adesso mi vedete si finita la condivisione dello schermo io non mi fido moltissimo di Microsoft Teams mi metto le vostre domande siamo in questa purtroppo gabbia per ragioni diciamo di accademiche insomma meglio di scelta dell'università di utilizzarla quindi ecco non possiamo andare fuori o meglio potremmo probabilmente ma mi piace Teams per carità però non mi fido perché la uso poco quindi non so bene che succede quando premo diciamo che anche noi ci siamo alfabetizzati un po' nel tempo in queste settimane adesso siamo un po' più più pratici me compresa e allora tanti stimoli dalle tue considerazioni e soprattutto su questa fase finale diciamo che poi chiama in causa il oggi nelle nostre mani potere di non partecipare è uno di di quelli insomma che scegliere di non esserci indipendentemente dalla fear of missing out però comunque un invito a un'attività molto molto faticosa da un certo punto di vista essere comunque invertire il flusso comunque avere questo atteggiamento di di scelta critica comporta una fatica in più a cui siamo tendenzialmente meno abituati o disabituati dalla facilità con cui tutto quello che ci arriva e ci in qualche modo soddisfa dei bisogni già senza questo tipo di cose riflettevo tornando al discorso dell'infotainment e comunque insomma di questi modelli che funzionano da ieri a oggi in maniera abbastanza parallela sul tema del conflitto comunque dell'odio che in realtà è tendenzialmente un conflitto cioè quello che ci e questo accade da Aristotele in poi cioè la tragedia greca e la costruzione nella poetica Aristotele parla di questo parla di come effettivamente era uno strumento di costruzione del consenso quindi era una forma di monetizzazione anche allora io c'ho sempre la fissa del vedere la gente che vantaggi il famoso cui protest è una chiave importante e senz'altro diciamo tutto quello che parla di le regole della scrittura televisiva cinematografica radiofonica e a questo punto di tutti i contenuti che comunque passano in rete testuali e non è basata su questo quindi diciamo che è molto difficile uscirne in termini di formule di intrattenimento alternative poi ovviamente si può polarizzare questo conflitto si può incentrare diciamo il focus sul dramma di chi vive il conflitto o su i temi polarizzati però obiettivamente è una gabbia narrativa da cui non si esce facilmente questa e su questo insomma mi sono messa un po' a riflettere sulle cose che dicevi cercando di astrarre dallo specifico dei generi che citavi che però di fatto in alcuni appunto questo aspetto è particolarmente diciamo importante in altri magari appunto viene meno ma comunque si parla di polarizzare le questioni e tentare appunto di alternare l'emotività di chi segue secondo stati diversi quindi anche nella SOP ci può essere questo aspetto che ci si può ritrovare in questa gabbia mi piace e mi è piaciuto molto la chiusa proprio perché effettivamente poi io ogni volta che noi affrontiamo dei temi nelle nostre elezioni cerchiamo un po' di rimetterli nel nostro menu quotidiano e quindi mi chiedo e chiedo ai nostri ragazzi e ragazze che hanno ascoltato e apprezzato credo di raccontarci un po' delle loro esperienze in questo senso cioè i discorsi che facevi sono usciti in parte quindi già nelle elezioni precedenti però mi piacerebbe sentire qualche insomma qualche qualche riscontro da voi se siete ancora lì mi auguro spero spero che abbiate anche mangiato qualcosa nel frattempo tu lo hai fatto io no mentre è vero che potevo giocare sul fatto che si vedevano le slide però si sarebbe sentito il fantasticamento cioè qualcuno vuole intervenire vuole dire qualcosa scrivere qualcosa qualche commento io li leggo così magari evitate l'emozione intanto qualcuno parla adesso sono tutti un po' intimiditi secondo me però dalle reazioni più di mancia cioè vi sentite in queste vi sentite diciamo di in qualche modo di provare questo tipo di disagi nel momento in cui parlando dei social network ne abbiamo spesso citato il fatto degli algoritmi dei dati che ci vengono chiesti chi è Carmela vero? sì ok vai manifestati mi interessava l'aspetto del del vuoto il professore parlava di questo vuoto che ormai si è aperto che appunto ormai questa tecnologia è così veloce no se noi utenti appunto siamo invece lenti nel capire qual è in realtà questo vuoto che ci spinge a perderci in questa in questa rete che ormai ok io se posso ci sono anche magari delle degli approfondimenti magari delle cose da leggere mi interessava questo aspetto allora quando parlavo di vuoto sì sicuramente c'è un tema proprio delle generazioni di utenti che usano magari il linguaggio della tv sui social questo succede per esempio in tanti trentenni quarantenni cinquantenni come me che vanno su facebook e riscontrano diciamo la presenza del linguaggio televisivo quindi in questo però soprattutto io facevo riferimento nel vuoto quando dicevo che le persone umane sono molto più lente rispetto alla tecnologia pensavo più alle reazioni dell'industria e anche della politica l'industria non ha alcun interesse dall'oggi al domani a sperimentare un esito che si può rimandare all'infinito tu come per esempio se sei un manager di 40 anni e ti ritrovi a dover fare improvvisamente tutto in digitale 40 45 anni e questa è l'età delle persone che prendono le decisioni importanti nelle aziende non hai interesse in realtà a stravolgere il modo in cui hai sempre lavorato perché viene messa in discussione la tua formazione professionale che invece affonda solide radici nel mondo precedente e quindi il tuo sforzo sarà venderti come un innovatore diciamo digitalizzatore implacabile poi tutto questo però non cambierà una virgola nel modo in cui l'azienda per esempio se sei anche nel mondo editoriale se sei per esempio una casa editrice non ne parliamo ma anche chi per esempio fa comunicazione istituzionale in una grande azienda tendenzialmente si fa un rapido calcolo e dice ma a me conviene passare come un digitalizzatore con una serie di diciamo piccoli fiori all'occhiello che mi posso mettere creo l'account twitter creo il sito fatto in un certo modo con dentro i video di youtube e così dico che ho digitalizzato l'azienda sono pronto ad affrontare la rivoluzione compiuta nel frattempo e magari poi il lavoro sporco lo fai fare a qualche freelance o a qualche agenzia che fonda il suo modello di business nella capacità di rispondere a questa esigenza della finta innovazione perché l'agenzia giustamente raramente se gli danno 50.000 euro l'anno dice no forse faresti meglio invece che aprire l'account a fare un'altra cosa io mi prendo i 50.000 euro e vedete che questi sono meccanismi aziendali di business sono meccanismi lenti che attengono alla lentezza nostra diciamo di persone rispetto alle potenzialità della tecnologia e sono perfettamente comprensibili sono gli stessi meccanismi che spingevano quando vennero introdotte le prime macchine nel traffico di Londra furono ammesse la circolazione in una città che girava quasi completamente a cavallo o a piedi o in bicicletta le prime macchine furono ammesse come dice spesso il professore Epifani che fa sempre questo esempio furono ammesse solo se vi fosse stato un vigile che camminava davanti alla macchina e annunciava il passaggio della macchina con una campanella perché? perché non c'era il codice della strada adeguato alla presenza delle macchine la prima reazione è sì sì io introduco la macchina e quindi sono l'innovatore poi la macchina la faccio andare piano in modo che il business dei cavalli non venga distrutto la gente continui a usare il tram trenato dai cavalli cioè la prima reazione è quella la conservazione e quindi quando parlavo di lentezza parlavo più di questo poi sì tu dici le persone sono lente a trovare linguaggi anche gli utenti però lì ci aiuta il fatto che c'è tutta una nuova generazione che sta proprio nel frattempo scrivendo completamente su piattaforme dove scappano giustamente per evitare noi che stiamo su facebook tendenzialmente poi non solo per carità e quindi su quello io posso dire il tempo è galantuomo nel senso passa una generazione e poi più o meno quel primo passaggio sarà fatto ma il business sarà ancora nelle mani di generazioni conservatrici ma non conservatrici in termini ideologici conservatrici in termini della rapida calcolo della convenienza arrivare alla pensione va bene così è un segnale di questo l'abbiamo visto con l'industria della radio digitale dove c'è stato un no lì veramente con la creazione del club DAB Italia penso che in Italia ci siamo adeguati finalmente al DAB solo dopo che erano stati coperti da tutti i padroni dell'industria radiofonica analogica precedente tutti i multiplex che dovevano garantire pluralismo quindi prima avevamo 5 operatori con 5 canali metti adesso noi abbiamo 5 operatori ciascuno con 10 canali che sono le istanze verticali del singolo padrone editoriale e questo è un esempio abbastanza emblematico nel nostro paese ma diciamo se parlassimo della digitalizzazione anche delle reti sarebbe più simile nel discorso nel caso della radio settore che abbiamo seguito abbastanza da vicino perché insomma è uno dei miei chiaramente pallini questo aspetto è macroscopico insomma lo sai che è buffissimo per riuscire a sentire qualcosa di nuovo sulla radio digitale devi contare su quegli operatori che per il momento vendono solo multiplex ma ancora non hanno trovato un acquirente cioè non hanno trovato che so una radiomaria che si compra quel nel frattempo nel frattempo cosa fanno per far vedere che funzionati si collegano con una radio che fa jazz da Seattle e da due anni esiste una splendida radio jazz in Italia che altrimenti non esisterebbe ma solo perché il canale deve ancora essere riempito Sì è un paradosso però è così insomma è la e la lentezza con cui non solo i produttori ma anche gli utenti stanno prendendo coscienza di questo la cosa pertiene anche ad altre motivazioni però è ugualmente emblematica ci sono altre domande ragazzi avete qualche qualche considerazione del vostro rapporto con con i social del vostro modo di informarvi di qualcuno scrive alla fine del del pezzo di Quinto Potere attualissimo questo discorso ancora oggi forse non so se era Stefania Urso abbiamo la realtà ha superato la finzione di quel film sì ne parlavi in merito alla diciamo alla contingenza del del lockdown tutti a casa o era un discorso più generale su quello che si diceva guarda era un discorso più generale e te lo dico perché la contingenza del tutti a casa comunque è una forma cioè nelle ultime tre settimane abbiamo visto che la continua ricerca di piani della rappresentazione inventandosi tutti i giorni qualcosa di nuovo per occupare l'azienda l'agenda dei media funziona fino a quando non c'è l'irruzione della realtà quando la realtà entra nelle tue case tutti i giorni la notizia ce l'hai semplicemente che non puoi uscire di casa quindi la notizia è quella è difficile che Salvini che si fa il tweet al papete non potrebbe farlo però riesce a far parlare di sé per 24 ore non può funzionare quel tipo di trovata del giorno anche nessuno si indigna più perché il problema adesso abbiamo un problema vero abbiamo una notizia che nella sua verità sconvolge l'industria dei media che non si fonda sulle notizie quindi resistono soltanto i pochi contenitori qualche contenitore di notizie i telegiornali o comunque le testate perché poi appunto i programmi di infotainment più beceri si sono lentamente rimodulati comunque sul vecchio modello perché hanno ricominciato poi a invitare può sempre mettere i virologi uno contro l'altro comunque l'idea della contrapposizione funziona però in un momento in cui la scienza dovrebbe dire una cosa valida per tutti proprio per soffragare il fatto di usare il metodo scientifico per arrivare non solo alla verità ma anche ai dubbi e invece mettere sempre contro due verità una contro l'altra di due persone che sono scienziati quindi appartenenti alla comunità scientifica non fa un grosso onore né alla scienza né all'informazione no hai ragione hai praticamente ragione non so se appunto nella contingenza di tutti a casa i nostri ragazzi e ragazze si stanno informando di più se effettivamente l'essere in qualche modo costretti vi ha portato a scoprire nuove fonti o a cercare approfondimenti al di fuori delle bolle in cui ci troviamo solitamente se avete appunto riscontri in questo senso se vi va di condividerli con noi ho visto qualche giorno fa purtroppo il giorno dopo non il giorno stesso perché non avevo modo la tua la serata che hai fatto con Bocciartieri e altri esperti insomma allora mi dispiace che tu l'abbia vista perché ti sei sorbita in queste ultime ora e mezza molte cose che già avevo detto no no ma comunque è interessante anche vedere un po' l'articolazione dei magari più tardi se riesco metto il link al ecco sì lì ci sono approfondimenti molto più dotti di quelli che ho potuto portare io perché c'è un grande sociologo come Giovanni Bocciartieri e soprattutto quando Marta diceva quella cosa sulla contrapposizione che esiste dai tempi di Aristotele beh lì in mezzo al gruppo c'era anche Bruno Mastroianni che di modi diciamo di innovare la retorica del dibattito gli strumenti retorici adeguate agli strumenti tecnologici che abbiamo adesso è uno dei massimi e anche più brillanti esperti che abbiamo e poi c'era anche Elena Crotti che invece raccontava appunto l'irruzione della realtà anche nei medi indipendenti perché lei si ritrova proprio nel bel mezzo della tempesta sociosanitaria lombarda per ragioni proprie e ha fatto veramente nel cuore del problema abbiamo avuto bisogno rompere lo schema dell'infotainment abbiamo avuto bisogno di un contenuto indipendente si è realizzato un relato molto bene mi manderò nella chat della classe il link a questa oretta di chiacchierata molto interessante che si può ascoltare appunto con Antonio che ne conduceva un po' la piattaforma che abilitava tutto questo è morta e quindi ci siamo anche un po' impigriti abbiamo smesso di cercarne di migliori poi ultimamente invece tra Zoom StreamYard eccetera ne sono uscite di molto belle abbiamo adottato StreamYard nel bel mezzo della crisi del coronavirus per vedere se potevamo fare il massaggio cardiaco a The White Room e l'abbiamo resuscitato l'abbiamo resuscitato quindi potremmo anche farne un'altra magari più avanti insomma che per tirare un po' le fila è la strada sperando che si veda la strada ci piacerebbe averti anche come ospite questo magari non volevo autoinvitarmi no proprio perché appunto hai un taglio molto più rigoroso per esempio del mio e una profondità di studi che io anche banalmente per la coincidenza degli impegni professionali non posso più avere ascolta c'è un ultimo commento di Luca nella chat che dice in effetti anche per promuovere la propria attività su Facebook bisogna pagare quindi in fondo è cambiata la forma ma non il contenuto come chi compra seguaci su Instagram mi piace seguaci ossia tanti mi piace ma fondamentalmente sono persone a cui non importa poco o niente della tua attività ma non solo denuncia il fatto che tu stai comunque cercando che cosa un audience che è esattamente quello teoricamente stiamo scappando cioè teoricamente scapperemo dalla logica dell'audience per entrare in una logica più interattiva qualcuno parla di engagement ancora come di una cosa innovativa ma l'engagement così come adesso è fondato sui contenuti che noi sui dati che noi rilasciamo inconsapevolmente quindi non c'è nulla della nostra creatività nell'engagement anzi c'è il ricircolo disinformato dei pregiudizi e delle idee precotte che arrivano dal mondo dei media e su quello poi ci confrontiamo identitariamente perdonatemi perché io fondamentalmente difendo magari il titolo di libero contro uno che difende il titolo di repubblica per le convenzioni politiche sarebbe il contrario ma adesso ho voluto fare l'esempio perché perché mi riconosco in quel clan di quelli che hanno ragione perché la pensano come meno poi dici le filter bubble sì ma sono abilitate dai giornali non dalle piattaforme tecnologiche assolutamente mentre parlavi mi veniva in mente una cosa che però adesso nel salire le scale ho dimenticato che volevo dire stiamo assistendo l'irruzione della realtà di nuovo molto spesso poi mi confonde le idee vieni qua vieni qua tutto bene tutto bene siamo svegli siamo svegli quello che voglio dire in conclusione mi potete trovare su twitter potete potete scrivermi su facebook se avete altre domande che adesso non vi sono venute lo potete fare dopo e niente non so se questa cosa la stai registrando da qualche parte l'ho registrata ed è su stream del nostro account universitario la posso scaricare e passartela con WeTrans che succede Leo questa ruspa guarda ecco così si attacca benissimo va bene allora mi manderai WeTrans e per i miei arti va bene va bene vi ringrazio dell'ascolto ringrazio tantissimo Antonio della tua partecipazione e condivisione di questo tema molto molto caldo e con i ragazzi ci vediamo martedì e con te prossimamente spero anch'io spero ciao a tutti grazie ciao grazie a te 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 grazie a te